Il dopo scuola dell'associazione Migrantes dopo la chiusura della casa delle culture si sposta all'interno dello spazio famiglia. L'operazione di sensibilizzazione alla cultura italiana, alla lingua italiana, al dopo scuola che veniva svolto all'interno della casa delle culture è stato affidato in via istituzionale a Fraternita. Dicendo però che tutti coloro i quali avevano esercitato la loro azione di sensibilizzazione dentro la ex casa delle culture avrebbero avuto da parte dell'amministrazione la disponibilità rispetto al progetto e rispetto all'ospitalità ovviamente a titolo gratuito ci mancherebbe di locali dell'amministrazione. Migrantes ha mandato come altri peraltro un programma, lo ha fatto però fin da subito e abbiamo trovato una soluzione secondo noi molto positiva allo spazio famiglia. Si tratta di un progetto che durante lo scorso anno scolastico ha accolto 16 studenti. È un servizio di pubblica utilità per ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno problemi di disagio scolastico dovuto alle ragioni più diverse e più disparate. Quindi non soltanto stranieri ma anche italiani che si trovano in questa città da poco tempo e che hanno problemi magari di ambientamento scolastico. Gli studenti sono stati seguiti da ex maestre, professori, laureati e laureandi in collaborazione con i docenti delle scuole che frequentano. Con dei volontari che danno una mano il pomeriggio nei compiti ma non soltanto nei compiti ma anche trasmettendo un metodo di studio aiutando chi è più indietro con la lingua italiana a raggiungere almeno un livello medio. Di solito i ragazzi che seguiamo sono promossi. Il progetto da settembre dunque proseguirà all'interno dei locali di Via Garibaldi. La Casa delle Culture era un'altra cosa, era un progetto diverso che veniva da lontano, veniva da un progetto che si chiamava Centro per l'integrazione. Di fronte a scelte politiche ci siamo adeguati. Io credo che un po' il dovere di tutti, anche delle associazioni, sia quello di farsi carico anche di scelte che non sono nostre.